e provare ad arrivarci ti si vuole bene a te ea ma tu ci vuoi anche qualcosa dei bit considera per qualsiasi streamer 100 bits sono un euro ea voi costano un euro e 70 tipo ma il geno è proprio a parlare di numeri numeri è tranquillissimo un caffè cioè io sono non lo faccio per lucrarci sopra infatti ho messo il tts a 10 cioè il tts sarebbe il bot quello che parla a 10 bit capito perché talmente poco me ne frega di guadagnarci sopra che voglio lasciarlo disponibile magari vuole chiedere qualcosa eccetera è brutto giocato ah no c'è agilità scherzavo sul serio di non l'ho hitto ma che brutto di tentacolare che ho tirato fino a lo zombo vabbè non sa dove camminare andiamo per lei dai fa culo perché non ti prende un altro tipo di pressione cioè prenderci le stack di tier 3 intanto diamo veneno a tutti alla fine giocato col tentacolo è praticamente un hit and run sembra lagare un po' il tentacolo quando due strago vorrei sapere quanto ping non capisco perché da killer non posso vedere quanto cazzo di ping ho onestamente c'è qualcuno dentro shock finto credo anche se non era necessario ciao sky comunque buonasera caro ci sta è un buon dodge ma non gli serve troppo ok abbiamo preso un po' di hit un po' di di tier 3 velocemente alla fine però mi è costato comunque di john progressione quant'altro però ancora quello no sono a quello lì ok lì c'è qualcuno almeno perché c'è lo zombie aggroso ok zombie ancora aggrato tra l'altro secondo te lag è più debole ma secondo me no grazie ragazzi del treno gentilissimi cari grazie anche dei viottini non so come veglia la petta uh è caduta fa muore inaspettato va lì uno in realtà non so neanche se era ancora più inaspettato comunque non è un brutto perk alla fine della fiera perché la differenza tra inaspettato e il perk per esempio di piramide è che inaspettato trasferisce il tuo terror radius sul gen per 30 secondi oltre che nascondere il tuo terror radius vabbè snake come si è fatto in italiano zombie sappiato vabbè snake nice scorso game vinto si la bet è per questa ok ma chi non si scam hai già pagato ma chi trolla ma chi trolla raga quindi adesso mi devo impegnare a fare 4k basta che faccio 2 kill giusto per la bet cos eh impegnati mi mancano 2 gen sto giocando nel nemesis faccio 2 l'olio io ok lui va su già safe molto più di lei metti cheat ok aspetta su giù su giù sinistra destra su destra destra su su giù davanti spazio 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 destro destro su giù destra sinistra su 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 destra destra sinistra ok adesso abbiamo la super velocità che loop di merda questo pacco 2 raga però la super velocità qua non mi serve un cazzo letteralmente pointless qua ma ho sbagliato ho feccato troppo dai zombie renditi utile per una volta nella tua cazzo di vita zombie raga ma non può essere così troppo lo zombie fuck merda cosa è brutto cosa sei lento a farcelo a fare due kill in questo momento veramente lento come se non serve una ceppa di minchia più addosso mi sono tanti tentacolato no oh non ho giocato male nice capitalizziamo su un errore mi sa mi sa come troppo è per stage vero ah mettiamo inaspettato sul jam qua e proviamo ad avvicinarci da un altro tipo questo lei forse è da dnook tra l'altro vorrei andare di m1 in questo caso se possibile però c'è qui di tryhardare per le due kill però almeno qui se l'avessi tentacolata prima sarebbe stato comodo però aveva da dard non l'ha usato tra l'altro strano poteva tranquillamente usarlo qui da dard allora dovrei controllare lì intanto non posso fallo però questo è fastidioso suppongo che stanno facendo un istituto jam calciamo qua e andiamo all'altro con inaspettato magari non se lo aspetta ok questo è chiaro è uno sprint qui non c'è nessuno sembrerebbe vuol dire che stanno facendo l'altro quello lì in fondo anche perché tanto sentono il mio terror su quel gen quindi hanno paura inaspettato value oh raga inaspettato veramente dà un sacco di value ma se provassimo a mettere inaspettato e oscurità rivelata rilevata rivelata come cazzo si chiama quella della vomitina colpendo l'ossessione mentre ho il coso nice mentre ho rotto il generatore bella merda di hit che ho fatto troppo partito il mouse hai due terror radius bigo interessante ma se concentrati io sono concentratissimo occhio è andato a fare il save questa è ancora in regressione ok ma l'ho fatto il cese non volevo colpire lei volevo colpire il pallet actually però sono tutti feriti tutti infetti questo è nice per noi dove cazzo sta andando questa ma ti sembra un loop ma signorina ma cosa mi combina signorina ma non è il terror radius perché ti fai sti mind game perché comunque è utile fare mind game anche se 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 non è terror radius comunque lei non sa dove sei capito la cosa comoda è questa non sarà lucido e che tu ce l'abbia o meno il terror radius se tu ti nascondi comunque dietro un muro e aspetti lei lei non sa da dove sto arrivando o dove sono in quel distante e anzi non avendo terror radius è anche meglio magari il girarsi si è totalmente inutile fare il mind game così è inutile perché tanto la red stain non la devi nascondere però è è intrinseco in me quello è abitudine basta non ci penso neanche snake ci riesce però è impercettibile sì perché si sentono i passi quello sì ma non volevo provarti devo essere onesto ha dato abbastanza value vai 4k adesso sicuramente vado di 3k 4 non so dipende dalla botola minchia ma laggato con l'allaboramento lux grazie dell'allaboramento grazie del quinto mese del terzo mese il quinto mese è tra di fila grazie caro ragazzi cuoricini in chat forza e bobby si atterra che hai dato 2000 punti bravi ragazzuoli stanno andando save guarda è disattivato non abbiamo idea della botola forse sta vicino alla porta potrebbe star camperando la porta per fare subito l'exit o forse no vediamo prima sei main lì no lì non mi sembra oh eccola un bel cazzotto ok vi do l'area one ok poi lo faccio qui vabbè gli diamo l'hit oh no io c'ho trovato perché sennò la prossima maratona alle 5 ci gioco contro un maestro specchietto l'eres cg minchie medi 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 adren adren cosa aveva pure sveglia unbreakable unbreakable in the dark sotto controllo abbastanza pointless ah forse per le forbici perché non usare quelle verdi però che altro è che c'è cos'è vabbè tutti abbastanza perk in me magari risolutore e magari sveglia ecco solo questi due perk magari non solo comunque ci sta a Autore dei sorrisi